ciao a tutti da iota e bentornati sul canale questa sera minimax tinyverse è un early access free to play attenzione free to play su steam dunque praticamente il gioco si basa su due fazioni una chiamata ai lai o ai lia ai rai lai ok quello lì quel nome qui questo qua e l'altra crea o crea ea crea ea something like that ok io sono sulla sull'altra praticamente potremmo dire umani e mostri gente strana fantasy ok quello praticamente questa è la ui quindi questo è il menu io già ho giocato un pochettino per vedere qualcosina del gioco per capirlo meglio e ci sono gli eventi eccetera eccetera tanta roba ma bando le ciancio e ciancio alle bande abbiamo anche delle quest queste qua andiamole a fare praticamente così veniamo subito il gioco allora praticamente il gioco è come se fossimo in un gioco da tavola e noi abbiamo la nostra manina che è questa possiamo scegliere tantissime manie e possiamo con la manina cambiare il tipo di combattimento il combattimento sono praticamente abbiamo un'arena dove noi possiamo far sponare dei nostri tiny verse minimax tiny verse no facciamo sposare dei nostri minion e praticamente questi camminano fino a quanto non incontrano un altro nemico e combattono abbiamo delle mosse speciali ma in più abbiamo un eroe che possiamo pilotarlo in maniera diversa rispetto ai minion ovvero praticamente possiamo stopparlo farlo camminare prelevarlo prenderlo con la manina e portarlo da qualche altra parte ma bando le ciancio e ciancio alle bande andiamo a vedere subito il gioco questo è il nostro campione il nostro eroe questa è la nostra troupe e questi sono tutti i miracoli i miracoli perché noi siamo visti un po come dio che può scagliare certi miracoli e ognuno di loro fa determinate cose questo fa il fulmine questo butta il veleno per terra questo è una difesa e questo è l'ealing molto importante andiamo a vederlo subito è un pvp e andiamo a fare la nostra prima battaglia attendiamo sul finding a match quindi aspettiamo il matchmaking sperando che arrivi abbastanza in fretta ok ci siamo andiamo a combattere contro questo coreano sperando di fare una bella vittoria caricamento dell'arena e si parte questa è l'arena incominciamo a spawnare un po di allora vediamo un attimo degli arcieri un tanchettino e iniziamo come potete vedere con vsd pilotiamo la nostra camera questi sono i nostri mob e qui ci sono le armi speciali che pian pianino queste barrette questa blu e questa rossa si caricano più si caricano e più abbiamo mosse speciali quindi dobbiamo aspettare quello che possiamo fare ok lui sta incominciando a usare robaccia ok non è un problema noi abbiamo finalmente il nostro eroe che è questo che possiamo anche prendere l'attenzione noi glielo facciamo fare nel frattempo ci curiamo facciamo un po di roba e poi smertiamo lui e buttiamo il nostro bellissimo melmacha prendiamo ancora un po di poi farà notte prendiamo un po di arcieri creiamo una barriera in modo tale che i nemici non possono salire prendiamo il nostro eroe perché non vogliamo farlo morire lo spostiamo in difesa con la nostra q facciamo la nostra speciale mossa del nostro eroe ok curiamo sponiamo questi ci siamo e adesso tiriamo giù la loro torre creiamo una barriera altri arcieri prendiamo il nostro eroe lo spostiamo così non muore e sali di livello naturalmente i livelli del nostro eroe sono massimo 3 come vedete qua sotto ok siamo alla fase 2 quindi abbiamo il livello numero 2 ci siamo ok ci diamo un po di buttare la palla di fuoco qui perfetto e creiamo anche il veleno per terra facciamo sponare un altro po di arcieri si combattiamo da lontano ci creiamo una barriera così non passano altro po di tank un po di questi facciamo un po di danno ok ci siamo siamo arrivando questa ce la teniamo ma soprattutto ci curiamo altri arcieri sono pronti via creiamo una barriera qui così fanno più fatica a passare ma devono fare il giro e noi abbiamo più tempo per far sponare altri mob quindi barretta dei nostri mob qui in basso a sinistra a destra abbiamo le nostre skill ho sbagliato con le bubble ma non è un problema altri arcieri arriveranno ok questa la mettiamo qui così quando escono si impregnano e li facciamo danno e oltretutto li rallenta questi sono velocissimi li chiamiamo via possiamo tenerlo in attesa siamo in fase 3 ci curiamo ah mi è morto l'eroe peccato peccato mi ha ucciso il mio eroe vabbè non è un problema dobbiamo aspettare un po prima che rispona però diciamo che siamo in vantaggio allora vince la partita chi totalizza più punti ok vediamo se riusciamo a tirare giù perché c'è il tempo naturalmente siamo un minuto e tredici un po' di lag ah non ce l'abbiamo fatta eh la cura è un po' inutile però vediamo speriamo che ce la facciamo se riusciamo ad avere una palla di fuoco ah è arrivato il loro sì allora non ce la facciamo col nostro eroe arrivare fino a lì e dobbiamo aspettare bella il veleno si fa male facciamo un po' di danno dall'istanza diciamo che le arme di istanza sono molto 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 buone in questo gioco facciamo così si riblocchiamo e loro non possono passare devono fare un giro yeah il balletto il balletto bello grande 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 bella vittoria allora alla vittoria ci aumenta il livello ci dà questi gemme rosse e naturalmente dei punti che ancora score punteggio e praticamente queste gemme rosse possiamo spenderle nel nostro shop per comprare altre robe come potete vedere tanti altri minion ma soprattutto miracoli come vedete sono bloccati e si possono sbloccare questi sono i punti che vogliamo e questo è ciò che è la spiegazione cosa fa possiamo già subito prenderlo se vuoi prenda acquisire il miracolo facciamo sì lui acquisisce il miracolo che butta tutti i nemici vicino lontano dalla posizione causando danno e una volta comprato il miracolo possiamo andare alla battaglia e sostituire i miracoli mettendo quello che abbiamo comprato semplicissimo andiamo di nuovo a uno start match here we go un altro match allora prendiamo subito gli aceri quelli che più veloci e i coccodrilli e iniziamo a combattere make your wish il nostro nemico questo sarà lo vedo potente sai mi sa che questo qua ci darà filo da torcere allora allora intanto gli facciamo un po' di male blocchiamogli l'eroe così gli uccidiamo un po' i trash sono bloccati perfetto e gli facciamo male la distanza ok si c'è l'audio un po' alto devo abbassarlo un pochettino ok qui c'è il curatore via altri ci servono altri arcieri perfetto via ok ci spostiamo il nostro bell'eroe e facciamo rallentare un po' i mobbettini questo questo target a questo via bella abbiamo preso un nuovo livello non ce l'abbiamo fatta è morto prima che facessimo la skill a questo punto dobbiamo bloccarli blocchiamoli tutti questa la vedo dura ok si è difeso stava morendo si è difeso perfetto dobbiamo recuperare perché sennò perdiamo dobbiamo recuperare siamo veramente sotto attacco blocchiamo i passaggi sennò ne arrivano troppi nel frattempo gli facciamo male a questi così arrivano meno carichi li sterminiamo ci curiamo l'oro ok altri se li facciamo se li facciamo un po' di male via blocchiamo dobbiamo dobbiamo recuperare via grande livello 3 via creiamo creiamo la barriera tanti noi abbiamo gli arcieri e gli facciamo male lo stesso in più mettiamo un po' di veleno ok ci siamo via stiamo stiamo recuperando perfetto non è un problema possiamo crearci una via d'accesso e scendere lo stesso e blocchiamo il oro perfetto ci vorrebbe la melma riblocchiamo di nuovo grande vai 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 ci siamo solita lag facciamo un po' di pulia sia aspetta aspetta proviamo a fare la cura invece vediamo se riusciamo a buttare di giù l'albero sì grande ma vieni stavamo perdendo ce l'abbiamo fatta grande stavamo perdendo avevo paura molta paura vediamo se possiamo vedere altri miracoli dark nether ok smooth walk line movement speed 5.3 ok mini cleansing removal buff from the enemy questo è carino it cannot be removed after the area miracle ok praticamente gli fa anche danno quindi toglie l'effetto ha il debuff ai tuoi alleati nel range che fa un danno di 400 50 all'oggetto summonato naturale questo non sarebbe male impariamocela ok grande era questa sì questa qui invece è freeze the enemy completely the enemy remain frozen for 7.7 seconds tips the dirty things do not smell bad when frozen ok quindi the fire getting too cold it's again extinguished tips the water when getting too cold it's freezing it cannot be removed ah by cleansing ok praticamente questa potremmo utilizzarla con l'altra quello il veleno perché the dirty things do not smell bad when ah no quella lì non funziona con questa meditation close your eyes to breathe deeply di restore 25% del massimo umana per 8 secondi questa non è male poi questa trapping roots immobilizza i tuoi nemici intrappolandoli mantieni i nemici con il target in l'aria per 6 secondi ok in totalità questa è caro no prendiamo anche questa not enough level to get ah vuole il livello 10 dannazione questa mi sarebbe piaciuta che livello abbiamo noi fobia questa è bellissima pure perché questa qua fa scappare giusto serenemies make it run away questa questa dai pugni 2900 livello 90 ma quindi ok impariamo anche questa turn day night for 15 secondi tanti di punti ne abbiamo a bizzeffe livello 6 di 6 boostare moving for speed ok così ce le compriamo un po' questo è il freeze e facciamo gli spendaccioni facciamo gli spendaccioni close your eyes and breathe deeply ok here we go and abbiamo anche set a field that block infected a miracle allora ammette un field che blocca il danno inflitto dagli a cavolo che non blocca crowd ah praticamente questo non ti fa fare il danno ti rende immune in quell'area questo non è male questo invece ah questo è livello 7 scusate avevo letto qui no questo è un'altra cosa quello è il livello della skill il livello che serve è il livello 7 quindi dobbiamo aspettare aspettere dobbiamo aspettere aspettere dobbiamo aspettare un altro po' ok quest ah bella lì abbiamo completato questa quest ci manca quest'altra e quindi andiamo in battaglia ma sostituiamo io vorrei sostituire questa con questa si per questo la stimola no con questa così la voglio provare match start e aspettiamo un nuovo match here we go power pumps power up power up max ok arcieri un po' di veloci rapto che sono le nostre lumache che sono velocissime e iniziamo speriamo che riusciamo a fare allora lui viene subito da questa strada vabbè non è un problema e poi ne abbiamo due di là perfetto altri arcieri subito subito abbiamo ingaggiato questi potrebbero essere abbastanza forti sono indeciso ok abbiamo l'eroe aspettiamo un po' questi li facciamo fuori così perfetto noi spostiamo subito il nostro eroe perfetto e quello che volevo fare era così si li blocchiamo esatto e iniziamo la nostra strategia sarà questa perfetto perfetto ok ce l'abbiamo fatta congeliamo questi ah l'ha mancato peccato mi devo ricordare di abbassare un po' l'audio perché è abbastanza forte ah lui sta mandando da qua vabbè non è un problema ok 4 buttiamogli giù subito questo qua facciamo anche questo così li blocchiamo questo siamo in fase 2 siamo in fase 2 ok via mi sa che perdiamo il nostro eroe perché abbiamo purtroppo un cooldown per prenderlo possiamo possiamo fermarlo ok via perfetto è arrivato il giorno ha fatto la skill per mettere il giorno facciamogli male peccato abbiamo mancato la cura facciamogli fare il giro largo andiamo di alceri arcieri 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 vediamo se riusciamo a buttargli giù la caserma fase 3 fase 3 perfetto non facciamoci uccidere l'eroe nostro campione e si inizia a bersagliare ci vorrebbe la nostra skill bella la cura assediamoli assediamoli e se riusciamo a buttarli giù assediamoli a di nooo Peccato Molto peccato Non ce la facciamo? Dai, dai, su Sa che non ce la facciamo No Vai, grande Abbiamo vinto Volevo buttargli laggiù Volevo sconfiggere la robata Ma non ce l'ho fatta, mannaggia Peccato Però, ce l'abbiamo fatto Vediamo se possiamo cambiare Allora Eccellente Ok Però questo è durante la notte Kaya Kaya è una delle più notorie assassine È agile Ok Però Solo la notte Lei c'ha 5,5 Ok Ci abbiamo lui Ok Che è il nostro Poi vediamo la truppa Vediamo un po' Allora vediamo se possiamo Non mi ricordo Ok Io non mi ricordo questo Ok Attack rate È bassissimo Cosa è che fa? Ah Questo è Cura Facciamo così Togliamo lui E E mettiamo un curatore Sì Sì Dai Ok Mettiamo un curatore Sì Dai Facciamo così Ok Here we go Allora 1 2 3 E ci siamo Se abbiamo spawnato anche il curatore Vediamo Possiamo un altro curatore E poi basta Perché se no poi non abbiamo potenza di fuoco Faremo una cosa del genere Così blocchiamo E prendiamo gli arcieri Facciamo così Non fa niente però Qualcosa lì Vabbè Dai che stiamo arrivando Via Ok Dai 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 Vabbè Facciamogli un po' male Dai Ok Ok Curiamoci Via Via Ok Servono arcieri Prendiamoci un curatore E noi li facciamo così proprio dall'inizio Prendiamo il nostro E ce lo spostiamo E lo mettiamo in attesa Aia Mannaggia Vabbè E ce l'ha fatto fuori Niente Perché mi sono messo con i curatori Va bene Aspettiamo che arrivano Aspettiamo che arrivano I nostri arcieri Facciamo anche che blocchiamo qua Lasciamoli un po' lì Ad aspettare E Li uccidiamo lentamente Via Blocchiamoli No Sbagliato Mannaggia Dobbiamo recuperare Stiamo In situazione Critica Ah Non si cura La nostra torre Ok Buona Va bene Ben a sapersi Via via Arcieri Come se piovesse Ok E iniziamo Dami altri arcieri Per favore Arciere Quello lo tira giù da solo Ehm Va bene Facciamo così E blocchiamo L'uscita Poi prendiamo Uno di questo Che ci serve Il coccodrillo Come fa Prendiamo questo Vediamo se abbiamo La scossa Ce lo spostiamo Via Altre arcieri Ci servono Come il pane Mister bubble A lui Ok Vabbè Li abbiamo tirato giù La torre Signori Li abbiamo tirato giù La torre Danno a distanza A un curatore Lo prendiamo Dai Un attimo Di lag Teniamoci Le skill Per buttagliela qua Una E due In più Li curiamo Yeah Grande Vittoria Stavamo perdendo Abbiamo recuperato Proprio 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 Eravamo a pelo Livello 6 E andiamo Voglio prendere Livello 7 Signori Livello 7 Perché voglio Prendere le nuove Le nuove skill Ok Here we go Allora Facciamo lo stesso Errore di prima Andiamo Due arcieri E un I nostri Coccodrilli Chiocciano Non so Come si chiamano Un curatore Adesso Lui manderà Esatto Molti di là Però Non ci interessa Perché noi Quello che ci interessa È Divertirci Da questa parte No Questo no Ancora Non posso Che cosa C'ha Ah C'ha la tipa Lui Ok Perché coriacea La tipa Sembra Veramente Dura Non si Ferma Neanche A pagarla C'ha Quest'aurea Allucinante Che non riesco A bloccarla Ma è invulnerabile Invincibile O devo uccidere questi qua dietro Forse devo uccidere questi due qua dietro Mi sa di sì Se devo uccidere quelli da dietro No no Vabbè È morta Vabbè Blocchiamo un po' Questi danno fastidio E questi li facciamo fuori Sì Quando arrivano Sono già mezzi morti Ok 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 Facciamo anche così Altri arcieri E ci spostiamo E aspettiamo qua Ci curiamo un po' Vai No Ho sbagliato Ho fatto Ho fatto una cosa che non dovevo fare Ho proprio sbagliato Devo uccidergli questi qua dietro Sono loro che danno fastidio Ok Adesso ho capito la strategia E forse la perdiamo questa Forse la perdiamo A meno che Incominciamo a fare un po' di barriere Va Adesso fa il fuoco Ok Ok Eh lo so Sono questi qua dietro Che danno fastidio In una maniera enorme In una maniera enorme Blocchiamo un po' Nooo Sbaglio clamoroso Ok Ok Via Allora Questa Questo mi rimuovi il debuff Che ancora non ce li ho Ma però Però abbiamo una palla di fuoco Ok Perfetto Ci curiamo Facciamo un po' di danno E blocchiamo anche questo Così Via Sudden death match Adesso ci divertiamo un po' Se li prendo Nooo Peccato Nooo Ce la facciamo? Mi sa che siamo morti. Vediamo se ce la facciamo a resistere. Blocchiamo un po', va? Via, via, via. Via, 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 via. Rimpolpiamo un po', e blocchiamo qua. Via, 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 dobbiamo vincere. Via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, via, via. Ah! Perché questo errore, Yota? Non ci voleva quell'errore lì. Oh, adesso è giusto. Via, via, via. Via, via, via. Beh, vedi, poi faccio queste cose. Mannaggia. Dai, 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 dai. che gliele ammazziamo tutti. Bella palla di fuoco. Vai, 26. Voi. Dai, non me lo spostava. Mannaggia. Voi. Abbiamo vinto. Attenzione. Non me ne immaginavo, avevo preso esperienza. Bella lì. Sette. Vai, grande Grande, grande Possiamo andare a comprare quei miracoli Bellissimi, dove erano? Qua Possiamo comprare tutti questi miracoli stupendi Quelli che fanno malissimo, tipo questo Tipo Questi livelli Che da 8 Livello 8 Livello 7 Livello 8 Livello 8 Quindi abbiamo imparato il pugno E il trapping Ok Andiamo subito a Togliere questa Questo è il buff Mettiamo subito il Questo non mi ricordo cosa faceva Ah ok No 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 Voglio questo, il pugno E invece di mettere Aspetta eh 2Nami 3L Attenzione 2LLLLLLLLEnemy Cogging the blast The enemies We hit by the meteor Take me l'80 Questo qui Knock in bed No Al posto di questo volevo il trap Vai Un altro match Oh here we go Allora Questa Questa E questo Ok Greenfield Ok ci abbiamo questo Questo carica subito Bello mi piace Quindi possiamo fare subito Intrappolarli Perfetto Ok Va benissimo E ci curiamo pure Ci portiamo anche Uno di questi E iniziamo a bloccare Questi Ok Vediamo se lui avanza Lui ancora sta lì Perfetto Blocchiamogli I mob Fila Ci sono i curatori Va bene Non c'è problema Blocchiamogli Gli arrivo di altri Prendiamoci anche noi Un curatore Fase 2 Via Corriamoci Corriamoci Ok 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 Perché non posso premere la Z Non posso premere più niente Che cavolo è successo Non potevo premere nulla Infatti avevo tutto in coda Mannaggia Via 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 Arcieri come se piovesse Blocchiamo un po' Portiamo ancheci un curatore Ce lo portiamo E ce li curiamo subito Via Altre arcieri E poi vediamo se possiamo Prendere un po' di tank Via Madonna mia Che è laggata Blocchiamo tutti questi qua Va bene Un curatore Ce lo prendiamo E questi li facciamo fuori così Poi ci prendiamo anche un po' di tank E blocchiamo qua Ok Aspettiamo che arrivino Via Qua gli facciamo fare il giretto largo Altre Via via Buttiamolo giù Sì sì ce la facciamo Ci curiamo Via 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 Grande 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 Via 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 Andiamo 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 Distruzione Ormai È vinta Grande Guarda guarda come ballano tutti Livello 7 Dovremmo arrivare Dovremmo arrivare al livello 8 Ok Perché se non sbaglio Voleva il livello 8 Dov'era? Qua No Ah Questi Ci possono sbloccare? Possiamo già prenderli questi qua Poi abbiamo questo Che li possiamo prendere Aia 5.400 Ho speso un sacco di soldi Ops Mi sono lasciato prendere dalla mano Appunto Ok Facciamo subito un'altra battaglia Cambiamo la mano Ci prendiamo quella dello zombie Che è più bella E attendiamo il nostro matchmaking Here we go Così proviamo la nostra nuova mano Questa volta facciamo così Vediamo un po' di tank E un po' di arcieri Questo Già noi stiamo attaccando Si Ci abbiamo un sacco di punteggi Però voglio aspettare Perché adesso arriva questo E io volevo bloccarli E fargli male così Esatto Faglielo fuori proprio subito Così lui è tranquillo Ed è senza eroe Poi gli blocchiamo anche L'uscita dei suoi nemici Ci portiamo un curatore Che ci serve Perfetto E gli ammazziamo questi Subito Nel frattempo I nostri facciamo la bubble Perfetto Ci siamo Altri arcieri Grazie Facciamogli fare Il giro largo Blocchiamolo Ok Uccidiamolo Questa qui Via All'arembaggio Ci portiamo un curatore Ci curiamo i nostri Ma tanti siamo full vita Dai che gliela buttiamo giù Dai Vai 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 Via 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 Grande Proprio K.O. Questa Grande K.O. Questa è stata pesantissima per lui Mi dispiace Bene Dopo questo grandissimo K.O. Io Vi auguro la buona serata E spero che vi sia piaciuto questo Gameplay Spero che vi sia piaciuto il gioco E E In early access E free to play su steam Vi lascio Il In descrizione Il link Direttamente su steam Dove potete scaricare Potete conoscere Tutte le varie Futures Che vorranno mettere Gli sviluppatori E Alla prossima ragazzi Bye Bye Bye